Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in questo nuovo video! Per chi non mi conoscessi, io sono Marika Spagnolo e oggi vi porto con me da Primark! Allora, andiamo a fare un po' di compere, io e il mio ragazzo stamattina, ci siamo svegliati un po' prestino, adesso scendiamo giù, prendiamo la macchina, andiamo a prendere l'altra macchina e andiamo a Verona. Io sono vestita così, semplicissimo, top di Terranova, jeans di Primark e scarpe Puma. Andiamo! Dov'è il mio ragazzo? Eccolo! Eh no, lasciate sul frigo, vado a prenderla. Ormai, a che è uscita fuori? No, me lascio. Dammi la gialla. Dammi, che appena arriviamo la troviamo un brovoro. Mi fa scordare tutto. Sto ritornando di nuovo su questa torrenteligente del mio ragazzo, mi ha detto. Quindi, come è entrata, prendi le energie, mi ha detto. Venendoci, mi ha lasciato in casa e mi ha detto. Eh sì, lasciala, tanto. Tanto, quando torniamo si trova calda. Brovolo di puffa. Io voglio fare qualcosa. Io voglio fare qualcosa. Io voglio... Eh? Cosa ho nell'ambulso? L'illuminante Ah, è illuminante Che calore Mamma Hai le lucette che mi saltano sempre a Falcone Mi piace, ci, ci, qua, no, taci Siamo appena arrivati e siamo nel parcheggio Amore mio, dobbiamo camminare qui, sennò ci mettono sotto Un e tre Una bonne Hai Estupenda no, anche se togli la mascherina a me questi qua ma perché non mi stanno gli occhiali? è bene amore allora noi siamo arrivati già da un po' a Parma comunque mi scusso se non vi ho registrato molto mentre eravamo al centro commerciale bla 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 però ne è, uno mi sembrava brutto tenere la fotocamera in mano in continuazione quindi non l'ho fatto anche perché c'era gente, mi guardavo e mi sembrava brutto da me, ecco, non sono, cioè io sono estraversa ma non in quel caso comunque chiusa parentesi quindi mi scuso se non vi ho registrato tanto mentre ero al centro commerciale nulla, vi dico che io sono arrivata a casa dopo vi faccio vedere i sacchetti e poi vi faccio il video chiusura cioè la chiusura del video e vi dico già che ci sarà una seconda parte dove vi farò vedere tutti i vestiti che ho comprato tutte le cose che ho comprato e poi un'altra parte perché vi dico già in questo video che ho comprato i trucchi da Primark una roba così leggera giusto per fare un piccolo make up e insomma ho comprato queste cose per fare un trucco e quindi vi registrerò un trucco solo ed esclusivamente fatto con i trucchi di Primark che vabbè dai sono trucchi che costano poco insomma si può fare e nulla oltre a questo io sto aspettando il mio ragazzo sto sudando in una maniera assurda perché ho la luce accesa sulla macchina e ho i finestrini completamente tappati completamente vabbè completamente tappati perché praticamente c'è la gente che passa e mi dà fastidio che uno vabbè mi sembra brutto che ho la luce accesa e loro vedono me che parlo con un telefono primo seconda cosa mi dà fastidio che la gente passa e magari mi sente parlare e dici ma questo con chi cazzo parla no? e non mi piace comunque nulla io ora apro i finestrini e ci vediamo dopo quando arrivi a casa ciao noi siamo arrivati a casa le borse sono a cura comunque spero che il video di oggi vi sia piaciuto se è così lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanellina così ogni volta che pubblico un video vi arriva la notifica e nulla ci vediamo in un prossimo video ciao